Buongiorno, sono Paolo Baglietti, amministratore unico di Health3000. Health3000 nasce per dare risposte alle richieste del mercato della telemedicina e di quanto ad essa collegato. L'azienda opera con i propri clienti in modalità B2B, fornendo servizi in forma pratica, efficiente ed innovativa. Health3000 si pone come precursore nel campo dell'assistenza medica di prossimità, che rappresenta la nuova frontiera della medicina del nostro Paese. La nostra offerta si articola nelle seguenti aree, la telemedicina integrata, la domotica integrata con una soluzione che integra domotica e telemedicina, i servizi sociosanitari erogati su tutto il territorio nazionale, comprensivo anche del servizio di consegna farmaci a domicilio, un'assistenza H24 7 giorni su 7. Vediamo nel dettaglio l'offerta di Health3000. I nostri servizi vengono erogati tramite la Control Room ed il Call Center, con operatori di lingua madre italiana attivi 24 ore 7 giorni su 7. Gli utenti accedono al servizio tramite un numero verde dedicato. Vorrei sottolineare che l'assistenza sanitaria di prossimità sarà la nuova frontiera della medicina italiana. Il nodo focale su cui è incentrato il sistema è l'abitazione privata delle persone. In questa ottica noi abbiamo realizzato un ambizioso ed innovativo progetto chiamato la Casa del Futuro, che vede l'integrazione tra sistemi di telemedicina, in particolare il telemonitoraggio, e sistemi di domotica. Apro una rapidissima parentesi per definire meglio cos'è il telemonitoraggio. È il sistema che consente al medico di tenere sotto controllo i parametri biomedici di un paziente a distanza. La rilevazione dei dati avviene nel seguente modo. Il paziente, tramite l'utilizzo di alcuni strumenti, rileva dei dati biomedici come ad esempio la pressione sanguigna, il battito cardiaco, l'ossigenazione del sangue, la temperatura corporea e altri. I parametri rilevati vengono trasmessi ad una piattaforma alla quale il medico accede e verifica l'andamento del paziente ed, in caso di anomalia di alcuni parametri, può decidere di sottoporre il residente ad una televisita per appurare lo stato di salute. I dati rilevati dal telemonitoraggio vengono recepiti dal sistema domotico, che in maniera automatica pone in essere alcune azioni, come ad esempio la climatizzazione delle singole stanze, regolando temperatura, ossigenazione, umidità, ricambio dell'aria e altro. Sono presenti inoltre altre funzionalità, come i sistemi di Mediation Remind, integrati con l'automazione domotica, che ricordano, ad esempio, al residente che deve assumere un farmaco oppure effettuare una misurazione. L'attività di ricordo può essere effettuata tramite l'accensione di luci o l'emissione di segnali acustici. Molto importante è il fattore sicurezza. La casa avrà diversi punti di richiesta aiuto collegati direttamente con l'assistenza remota, mediante interruttori intelligenti e o sistemi indossabili collegati wireless al sistema domotico. Altra funzionalità di grande importanza è la segnalazione dell'uomo a terra, che segnala l'eventualità che il residente abbia avuto un malore o sia vittima di un incidente domestico. La control room avvia le procedure di verifica previste e, nel caso, attiva i soccorsi. Parliamo ora dei servizi attivabili dal domicilio. L'utente, tramite il call center, avrà accesso ad una consulenza medica offerta in modo immediato e diretto da parte di un medico internista. Il medico, durante il processo di valutazione dei sintomi dell'interessato, potrà indicargli l'eventuale necessità di approfondire la sua situazione medica consigliando una visita specialistica ed offrendo la possibilità di effettuarla con medici selezionati, attraverso una televisita o in presenza. La control room potrà fornire i nominativi dei medici specialisti disponibili e i nostri operatori provvederanno ad effettuare per conto dell'utente tutte le attività di prenotazione e conferma per quanto attiene alle visite in presenza e tutte le attività di prenotazione e attivazione per quanto concerne la televisita. Gli utenti potranno inoltre usufruire del servizio di trasporto con l'ambulanza e del servizio di consegna farmaci a domicilio. Concludo con il tappeto rosso. È un servizio dedicato a tutti gli utenti che necessitano di accedere ad una struttura sanitaria. Gli addetti di Elt 3000 in tempo reale organizzeranno un accesso prioritario alle strutture sanitarie di ogni tipo su tutto il territorio nazionale. Io concludo qui e vi ringrazio dell'attenzione augurandovi una buona giornata.